E' incredibile, stavo giusto per caricare il video sul terremoto di stamattina, è arrivata un'altra scossa, incredibile Cioè, balla tutto, balla tutto Un'altra scossa fortissima Cioè, ma porco Dio, ma neanche a farlo apposta, cioè vi giuro, stavo caricando il video, infatti eccolo qua Cioè, al 2% era Cioè, al 2% si mette, oh ma cazzo, ma questo, cioè, sono proprio segnali, oh E' proprio il destino, cazzo Comunque che palle, porco Dio Che due coglioni Una del pomeriggio e una terra balla ancora Io però comincio a essere un po' stufo, cazzo Io mi faccio un giro oggi pomeriggio, non ne posso più Continuo a ballare tutto, continuo a ballare tutto Non si sta tranquilli, non si sta tranquilli per un cazzo Oggi pomeriggio c'ho da fare, lavoro, cose, ma che palle, oh Non mi va di andare in giro così Niente, adesso andiamo a vedere su internet cosa cazzo è successo Bu